Voglio invitare qui in scena anche Giulia Maggio, perché uniamo un attimo le tue situazioni. Allora, prego, prego Giulia, stai qui vicino a me. Allora, Francesco. Allora, come ti dicevo, ho ritratto parecchi personaggi influenti. Allora, purtroppo non ho avuto la possibilità, e me l'hai detto questa sera, di ritrarre il nostro Lucio Dalla. E questo è un grandissimo onore, io ti ringrazio. Questo è per te. Bellissimo, bellissimo. Grazie Francesco Garofalo, grazie veramente, è fantastico. Grazie a te. Io me lo appendo in camera da letto. Ottimo. Stai pure qui con noi, e l'altra sorpresa è il richiamo in scena, Daniele Savelli. Daniele, passa pure qua, da questa parte, perché Giulia Maggio, nelle sue varie composizioni in rame, ti vuole premiare con una sua composizione, appunto. Eccola qua. Sì, allora, anch'io mi occupo, ho fatto l'accademia, chiaramente ho frequentato un'accademia, e come tecnica di specialistica ho realizzato incisioni sul rame. È stato riconosciuto come premio internazionale perché è unico in Europa, in quanto io ritrago i volti delle star, di tutti coloro che comunque hanno dato un contributo sociale. Allora, questo cos'è? È un veicolo. È un veicolo dove praticamente mi occupo di beneficenza, e tutto l'incroito insieme alla nazionale, cantanti, calciatori e quant'altro, praticamente è destinato ed è voluto agli ospedali oncologici pediatrici d'Italia. Abbiamo anche collaborato con Teleton, e adesso vorrei fare un progetto anche per i gaslini, perché purtroppo gli edifici sono precari, e non solo, non hanno neanche i macchinari, e quindi con il trasporto aereo a volte i bambini non ce la fanno. E quindi io mi voglio occupare anche di acquistare dei macchinari insieme, ripeto, ad altri miei collaboratori che hanno associazioni culturali d'arte e spettacolo come me. La mia si chiama Europe Art. Io mi occupo anche, l'ho regalato anche a Maurizio a Sanremo, perché sono anche nella Kermes di Sanremo insieme a Maurizio e anche altri, e mi occupo proprio di ritatti. Infatti avevo ritratto anche Lucio Dalla in due versioni, col cappellino. Quello ce l'ho in ufficio. È vero? Dove ce l'hai? In Germania. In ufficio, in Germania. Sì, in Germania. Ecco, e quindi avevo fatto anche le premiazioni, erano destinate anche alla cugina, vero? Insiediamo un attimino un parere a caldo di Daniele e poi proseguiamo con la gala. Esatto, allora, perché Daniele? Daniele è partito anche qui con il concorso, vero? Ho partecipato tre anni fa, mi sbaglio? Anche l'anno scorso, veramente. Io non c'ero, io non c'ero quindi. Quindi, tre anni fa c'ero io, ecco, ho partecipato ed essendo che ho notato che è un grande talento, e poi lui addirittura fa attributo... A Rino Gaetano. A Rino Gaetano. Io sono stata a Crotone, proprio a casa di Rino Gaetano, quindi ho fatto anche lì una premiazione. Di conseguenza, vedendo lui che ha portato al Festival di Roma, vero? Sì, sì, all'Arena Niene ho fatto due spettacoli ad agosto. Ho apprezzato molto questo, e quindi, niente, mi sono ispirato a fare appunto un premio a Daniele. Ecco, però facciamo dire due parole anche a Daniele. Sì, prego. Dai il microfono a Daniele. Io sono emozionato, Giulia, non me lo aspettavo, veramente sono senza parole, però apprezzo moltissimo tutto quello che hai detto e tutto quello che fai. e quindi io, grande emozione, rimango veramente basito perché non me lo aspettavo veramente, quindi grazie veramente, di cuore, di cuore. Grazie Daniele Santelli, grazie Giulia Maggio, io ritorno un attimo da Francesco Garofalo. Francesco, ma tu fai anche giornalismo, se non sbaglio? Sì, sono scritto all'albo dei giornalisti della regione Lombardia, mi occupo comunque sempre di arte e scrivo su diverse testate. Quindi sicuramente le tue recensioni hanno anche un valore prestigioso. Sì, anche perché sono critico d'arte, quindi di solito me le chiedono proprio per quello. Ecco, a posto. Va bene, concludiamo questo momento e con un grande applauso per Francesco Garofalo, Giulia Maggio e Daniele Savelli. Io vi congedo e vado avanti con il programma.